Tivex.net è un circuito di credito commerciale, il primo e unico nel Lazio. Questo è il primo anno che partecipiamo a questo evento organizzato da CDO. Siamo molto contenti di essere qui per farci conoscere, proprio perché siamo un network di aziende e professionisti del Lazio che scambiano tra loro beni e servizi senza sborso euro, ma solamente usando crediti. Ci siamo ispirati a Banca Vir in Svizzera, sorta nel 1934, e siamo nati insieme a Sardex in Sardegna. È una realtà che esiste già da 4 anni con 1600 aziende iscritte. Noi siamo nati a gennaio, per ora abbiamo un centinaio di aziende iscritte che transano e siamo molto contenti dei risultati ottenuti e speriamo che grazie alla partecipazione a CDO potremo avere ancora più aziende e professionisti laziali entusiasti di questo circuito e speriamo di dare una mano all'economia locale e quindi mantenere la ricchezza del Lazio e aiutare le imprese laziali a crescere.